Oggi pomeriggio ho avuto la riunione con la società dove c'erano i miei compagni, staff e dirigenti. Abbiamo chiarito e il mio compagno che mi ha fatto lo scherzo, non l'ha fatto per cattiveria, aveva capito che aveva sbagliato. Lui insieme ai miei compagni ha chiesto scusa e io ho accettato le scuse. Adesso ho qualche tico, è il momento di essere uniti, andare in campo, vincere, essere una vera famiglia.